I feel like I'm livin' in a rave Ma la vita non è per parlare o è gett'in deep o you can feel it in a base Ma la mano ha lato alzano o che mi fa menù ma lo so che sto vivendo in a rave Ma la vita non è per parlare o è gett'in deep o you can feel it in a base Ufficialmente in fuga abbiamo 40 schifas che c' ha dato foodspeak da consegnare gratis Ma non ci possono beccare La bolgia che sentite All'impianto si sparpaglierà e ci cercherà Siamo pronti ad accoglierli Allora ragazzi siamo alla seconda challenge del giorno Salto in lungo pure best trick sull'ultimo salto della froggy Guarda quanti siamo a partire Tagliate la luce Vince sostanzialmente questa sfida Si parte da più in alto possibile Ed entra in curva Ma non potete mettere le dita sui freni Ma allora Ma dai Ma no Ma non potete Siamo prima il best whip che l'ha vinto Federico Lovo Scusa è vero ho sbagliato tutto Bravo Salto in lungo, scusate, sono un po' fuso Qui eravamo indecisi Tra due ragazzi giovani Ido Peru, il miglior U, il patore di oggi Edoardo Alferdino La sfida che è durata di più di tutte La Death Grip Challenge La vince Mattia Un applauso Mattia, ragazzi Quando vi aspettavo dell'area jump C'era il silenzio del bosco E poi sentivamo Sembrava il signore di anelli Raga Io l'ho detto prima Credo che Cioè questo party ride Io l'ho detto Mottolino ha il mio cuore Da una parte Ma oggi col party ride La miata si è presa all'altra parte del mio cuore Perché non ho mai visto così tanta gente Venire a un evento Organizzato Cioè nel caso In questo caso da noi Ma veramente ragazzi Pazzesco che casino c'era la miata Allora il casino è iniziato questa mattina Alle 7.10 Ho sentito il primo petardo Abbiamo finito adesso Sarà alle 7 di sera I ragazzi ci sono andato tutto il giorno In casino Gente che ha perso la voce Quindi grazie ragazzi che sono venuti Perché avete veramente capottato la miata Questa ragazzi è veramente L'essenza del party ride Cioè oggi Si è proprio visto il party ride vero e proprio Cioè girare tutti i sei Ingasarsi Urlare Proprio Massacrare Cadere Ingasarsi ancora di più Ingasarsi ancora più casino Essere contenti di essere investiti Esatto Incredibile Ricordatevi ragazzi Oggi faceva freddo Ma i t-shirts sono un numero limitato Ragazzi Quindi mi raccomando E l'ultima tappa Monza Pizza Ci vediamo il 22 ottobre Bella